Quest'anno l'Assemblea degli Iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia si tiene alla Scuola di San Rocco a Venezia nel pomeriggio e l'Assemblea sarà preceduta da un convegno sui cambiamenti climatici e qui c'è l'Ingegner Boato che è il coordinatore della Commissione dell'Ordine sui cambiamenti climatici proprio. Prego. Sì, l'Ordine del Collegio degli Ingegneri di Venezia hanno ritenuto di predisporre e adottare un documento sui cambiamenti climatici, questo fenomeno che sta interessando in modo molto importante e molto preoccupante il pianeta Terra, gli ingegneri ritengono di poter fare qualcosa per questo e quindi è stata istituita una Commissione ed è stato prodotto questo documento e l'occasione di questo convegno sarà proprio quello di illustrarlo al pubblico. Partecipate quindi sia al convegno che alla successiva assemblea nel pomeriggio del 23 luglio qui alla Scuola di San Rocco a Venezia.